Qual è il nostro capitale più prezioso? Sono le persone che ci permettono di essere ogni giorno al fianco dei nostri clienti e ci arricchiscono professionalmente ma soprattutto umanamente. Siamo sempre alla ricerca di persone così. Per questo abbiamo deciso di investire su Italia. Rendi parte al nostro valore e diventa consulente finanziario del gruppo Banco d'Azion. Ti aspettiamo. Grazie a tutti.